Fumata bianca per le nomine dei direttori generali delle ASL di Chieti e l'Aquila. La giunta regionale ha posto l'ingegnere tedesco Thomas Schell alla guida dell'azienda sanitaria di Chieti, dopo che questo aveva ricoperto il medesimo ruolo nella ASL di Bolzano. All'Aquila ha confermato Roberto Testa, già direttore sanitario dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e del contrasto delle malattie e della povertà. Per quanto riguarda l'ASL di Teramo, invece, si ragiona sulla successione a Roberto Fagnano, che si è dimesso dopo essere stato promosso alla direzione del Dipartimento regionale della Sanità. Tra i nomi papabili, quello di Maurizio Di Giosia, che attualmente sostituisce Fagnano. Presto dovrà essere nominato anche il direttore dell'ASL di Pescara. Intanto per i direttori generali è stato approvato l'aumento dello stipendio, che passa da 115.000 a 149.000 euro l'anno. Una somma da capogiro, ma tutto sommato in linea con i 155.000 euro delle altre regioni, fatta eccezione per la Calabria, dove i direttori delle ASL guadagnano 126.000 euro l'anno. Altra questione importante per la sanità regionale è l'approvazione dei piani triennali di Fabbisogno del personale, su proposta dell'assessore Nicoletta Verì. Saranno 1.157 le persone da assumere in tre anni, ovvero 519 per l'ASL dell'Aquila, 299 per quella di Pescara, 339 per quella di Teramo. L'assessore Verì, però, precisa che la programmazione approvata non sarà rigida, ma potrà essere modificata nella fase di riorganizzazione del sistema sanitario abruzzese. L'ultima parola l'avranno anche i direttori generali, che potranno rimodulare le figure professionali da inserire in organico nella maniera che riterranno più opportuna.